Ciao ragazzi, qui Pablo Trincia della redazione delle Iene Italia 1. Ve lo so di dirvi che il 21 di giugno sarò a Macerata a presenziare all'evento organizzato dalla CMC. È un evento importante perché è la conclusione di una serie di workshop che si terranno in questi mesi e che vedranno coinvolti diversi giovani che si vogliono affacciare alla professione del videomaker e del videogiornalista. Dico che sono importanti perché oggi come oggi chi vuole cominciare questa professione ha bisogno di cominciare da qualche parte, ha bisogno di un corso, di qualcuno che gli spieghi se non altro le basi di questo mestiere. Poi oltretutto so che alla fine di questo percorso ai ragazzi verrà regalata dell'attrezzatura, cosa assolutamente fondamentale per cominciare a lavorare, per cui credo che sia giusto esserci e credo che sia giusto soprattutto una volta che sarò lì parlare con chiunque abbia delle domande, delle curiosità o dei consigli da chiedermi perché noi dobbiamo mettere la nostra esperienza a servizio di chi vuole cominciare a costruirsi una carriera. Questo non è molto facile oggi come oggi nel mondo del videogiornalismo, non è molto facile nel senso che ci sono tante difficoltà, però ci sono anche tante cose che chi vuole iniziare questo mestiere può e deve sapere per cercare di avere successo. Quindi il 21 giugno ci vediamo a Macerata, venite perché sarà sicuramente bello e sicuramente molto interessante. Ciao ciao!